Buonasera a tutti sono Luigi Naracco se preferite bentornati su Nanatsu Notisai Grand Cross nel mentre si avvicina sempre di più il giorno dell'arrivo della collab che potrebbe già essere la prossima batch quindi attenzione sappiamo che settimana prossima tra sette giorni esatti arriverà e teniamoci pronti con le gemme io ne ho oltre 400 da parte questo gioco caga gemme in una maniera che la metà basta ragazzi ve lo dico quindi non è un problema anche un free to play ne riesce a fare impegnandosi penso sul centinaio a settimana circa facendo però naturalmente del pvp tornando a noi oggi passiamo all'analisi di un altro dei pg coin penultimo ma non per importanza ovvero il nostro orso segno della cidia della pigrizia king personaggio free to play personaggio free to play che viene regalato al capitolo 3 se non erro ma vi dico è uno dei migliori più del gioco forse secondo solo al sempre santo dio gouter ma passiamo un attimo con le statistiche 40 per cento di penetration che come vedremo è molto importante per la sua s1 20 per cento di pazienza 0 di regeneration 30 di critical rate che sempre è molto importante per la sua s1 105 per cento di critical damage che come vedremo è devastante nella sua special 0 per cento di critical rest 0 per cento di critical control 120 per cento di recovery rate 0 per cento di live steal come vedete manca pesantemente di caratteristiche difensive buone ma andremo nel pvp a ovviare come vedremo dopo le sue skill ragazzi questo è un pg che fa tutto un po come gouter e più da supporto del team da attacco di un singolo nemico però lo fa bene andiamo con ordine la sua s1 la terza forma fossilizzazione parte con un 200 per cento di danno a single target purtroppo il problema maggiore di questo pg è che a livello 1 le sue skill sono inutili richiede richiede pesantemente a mio avviso gouter oppure comunque di far crescere le sue skill quindi a mio avviso di un pochino lavorarci sopra a differenza magari di un ban di una merlin o di un meliodas che anche a livello 1 le loro skill fanno quello che devono fare a partire dal livello 2 però aggiungiamo pietrificazione come è stato salterato al nemico che viene colpito allora piccola premessa per infine pietrificazione bisogna far danno effettivo al nemico quindi nel caso il nemico sia dietro lo scudo di merlin dietro la barriera di griamor se non gliela distruggete non riuscirete invece di pietrificazione una volta inflitto pietrificazione verranno tolti tutti i buff debuff e stance che il nemico ha attivi senza che li possa utilizzare quindi se colpito un meliodas green lui non potrà counterare verrà pietrificato non potrà muoversi per il turno avversario salvo che non subisca danno quindi utilizzata sempre come ultima mossa a livello 3 aumenteremo a 250% i danni e durerà due turni a pietrificazione nel pvp se rimanete con lui contro un nemico il nemico salvo molto probabilmente quitterà ve lo dico subito l'S2 quindi l'ottava forma flower ha una stella in realtà ha già una sottilità anche se non eccessiva ovvero un clean totale per tutto il party dei debuff questo vuol dire che toglierà ogni genere debuff al vostro party molto utile soprattutto se state affrontando magari un demon meliodas o comunque pg che sono molto forti se voi avete debuff o vi infliggono debuff continui in un colpo solo potrete tranquillamente eliminarli a partire dal livello 2 vi ricaricherà hp questo valore però equivale a una percentuale di hp che non avete ovvero a livello 2 un 30% di quelli che vi mancano e a livello 3 un 50% quindi non avrete mai una cura totale parziale però non è male calcolate che lui non è da utilizzare prevalentemente come healer è più un sub healer secondario che però funziona healer per ora nel gioco sono abbastanza inutili però lui come seconda cosa di curare ci può stare la sua special soprattutto in pvp ragazzi fa malissimo nel caso abbiate dovete avere una dian sotto arriva a 480% di danno a tutti i nemici che vi lascio immaginare con un critical rate base del 30% e i vari vestiti può arrivare tranquillamente a un 40% con 150% di critical damage quanto possa avver male utilizzando crashing quindi non tiene conto della pazienza ottima per distruggere gruppi interi il mio livello 70 grado 5 in pvp senza equip ragazzi quando gli riesce a lanciare la special se non sono dietro merlin fa una media di un 40k di danno cretando e sui 30k almeno a memoria almeno non cretando è davvero capace di annichilire un intero team ci ho fatto ieri una vittoria bellissima in cui mi era rimasto solo lui contro il team completo nemico completo di quattro nemici gli shotto tutti quanti la prontorò utilizzando la special per poi andare in uno contro uno in cui il nemico finisce perennemente pietrificato grandissimo ragazzi davvero grandissimo pg la sua passiva e forse l'unica cosa davvero un pochino sotto tono è un 8 per cento di potenziamento alle base stats quindi attacco difesi hp di tutte le fate colpisce anche lui quindi in realtà ha una sottilità il problema di fondo più che altro che purtroppo ok a lui lo colpisce va bene buono così però non ci sono tante altre fate buone si può utilizzare magari su elbram rosso che in pvp gold è molto utilizzato quanto senza equip riusci a fare abbastanza danno da misciottare pg come merlin il che non è male li può anche pietrificare anche lui però oltre di lui non c'è molto aspettiamo comunque elaine marluxia no come si chiama il re delle fate comunque del passato ci sono vari pg del clan delle fate che potrebbero essere più che buoni e un 8 per cento loro stats non è affatto da buttare quindi passiva che attualmente non aiuta molto ma in futuro potrebbe essere davvero un piccolo gioiellino parlando di come si comporta all'interno del gioco ragazzi questo esattamente come goter un pochino meno in realtà è un pg che userete ovunque non per nulla addirittura nel mio caso è stato il proprio pg comportato a livello 70 all'interno del pve funziona da dio in ogni evento salvo eventuali eventi in cui il boss è immune escluso però escluso il grey demon in cui comunque combusta i danni quindi comunque potreste utilizzarlo per la special contro il grey demon anche se a quel punto consiglio piuttosto di utilizzare il king verde che è fatto apposta per il grey demon cioè è fatto davvero apposta però comunque è utilizzabile contro il grey demon ragazzi è uno sterminio tra s1 che lo shock e lo pietrifica e s3 quindi special capace di fare una roba come 80 mila danni a botta è uno dei pg che più utilizzo e con cui più sinceramente mi trovo davvero bene promosso assolutamente a pieni voti in pve come ho detto anche la poco da dire pg scusate in pvp pg che è il repto obbligatorio in ogni team anche perché è free to play quindi dovete averlo molte battaglie si potrebbero decidere su quanto riuscite a lavorare attualmente il meta si basa tutto su pietrificazione e status alterati quindi perché non esce un pg che come passiva all'immunità ciò che sarà il suo counter principale sarà abbastanza tosta un suo counter lo possiamo avere in gerico che lo shotta una gerico pompata bene in pvp di alto livello lo shotta ma malissimo e in pvp di basso livello merlin green merlin green riesce con il perfect cube livello 2 obbligarlo a utilizzare un altro attacco per ridurvelo altrimenti non riesce a superarlo con la sua s2 e una s1 livello 2 o 3 riesce sia a togliergli della carica sia a fargli davvero tanto danno quindi ci sta da dio ban coin e ban green sono anch'essi degli ottimi counter in quanto diminuendogli le stats e poi colpendogli fanno davvero male bene o male purtroppo essendo molto squishy le busca da quasi ogni pg verde decente nel gioco nel pvp di basso livello nel pvp di alto livello apposta per questo verrà buildato full hp e difesa per ridurre al minimo le possibilità che vi muoie in fretta che possa lanciare un po' di fossilizzazione in giro per farvi guadagnare turni per lanciare la sua special o far partire la combo del team in pva invece ragazzi un full attacco e difesa cattivo il mio ha oltre 7000 d'attacco il pg a cui ho dato i miei due keep ssr a 4 stelle attuali e non me ne pento davvero ottimo ottimo l'unico modo l'unico cosa in cui non lo uso attualmente e nel farming in quanto utilizzo pg che sono un attimino più rapidi però funziona comunque da dio tutto questo noi ci vediamo al prossimo video in cui affronteremo bancoin ho deciso di fare i 6 pg coin e poi andiamo a vedere un po' quali saranno i prossimi piccola cosa che vi dico già da adesso anche se ne parlerò in un video che probabilmente avrete visto di più io e questo fine settimana non usciranno video quindi il video su post venerdì il video successivo uscirà probabilmente martedì in quanto questa domenica e lunedì sarò a Gardaland stranamente ve lo dico ci sarò per lavoro in quanto c'è la riunione estiva dell'azienda in cui lavoro dell'azienda immobiliare in cui lavoro che è fatta a Gardaland ciò non so se qualcuno di voi si trova alla Gardaland me lo faccio sapere perché anche se ci sono per lavoro sarà la sera il lavoro il giorno saremo tutti un pochino in giro a divertirci quindi se qualcuno di voi ha la fortuna di se Gardaland in cui giovani possiamo chiacchierare e cazzeggiare anche un po' insieme ci vediamo quindi al prossimo video buona serata grazie a tutti